oh guardate chi c'è è proprio lui cosa? perché dai questi tempi questa neve nevica tutto il giorno ma che coglioni non è possibile figo è un po' difficile non notarlo non credete lui passa le sue giornate non è possibile con la neve lui passa le giornate a spalarla lui mangia anche la neve lui è sempre in giro con il camioncino e ha investito più di 4 gatti anche il mio l'ha investito ma il Mckevin aveva lasciato le chiave in macchina si e col cacciavite non riesce ad aprire il camioncino e poi non sapete quante volte vanno a mangiare in quei fast food di merda ci vanno tipo ogni sabato ci vanno ogni sabato sono al mcdonald non è possibile 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 non è possibile